Massimo Corvo, uno dei più conosciuti doppiatori italiani, colui che ha prestato la voce a celebrità come Sylvester Stallone e Vin Diesel, agirà da supervisore artistico e da insegnante all'interno della prima casa di produzione di doppiaggio inaugurata a Palermo. Un progetto ambizioso affinché anche al sud i ragazzi possano studiare cinema avendo come maestri grandi professionisti. Chi inizia questa professione deve iniziare a studiare tanto, tanto, tantissimo perché come per tutte le nostre regioni meravigliose italiane ognuno di noi ha dei difetti di pronuncia e una delle prime cose che è richiesta nel doppiaggio è l'assoluta pulizia dell'italiano. Quindi oltre a quello l'impostazione della voce, la respirazione, non è una fiction dove si capisce poco di quello che dicono. Nel doppiaggio si deve capire tutto, soprattutto pensando a persone magari non vedenti che contano proprio assolutamente tanto su queste nostre emozioni che cerchiamo di dare con un doppiaggio che faccia meno danni possibili al prodotto originale. Le principali difficoltà sono le difficoltà di un ramo del lavoro dell'attore, soprattutto perché c'è una tecnica ben precisa da studiare, da imparare e quindi tanto allenamento su questo perché mentre l'attore esprime tutto quello che ha da esprimere totalmente con corpo, voce, mente e anima nel doppiaggio l'unico strumento che abbiamo a disposizione è la voce e la voce deve allinearsi al personaggio, all'attore che stiamo doppiando facendo, ripeto, meno danni possibili, quindi cercando di riportare tutte quelle emozioni.